C'è una grande soddisfazione per questa vittoria a livello regionale, abbiamo strappato alla sinistra dopo tanto tempo questa regione trascurata ultimamente, ci sono state parecchie carenze, questo forse la gente ce l'ha riconosciuto quindi la crescita anche di un partito a livello regionale di Fratelli d'Italia di cui faccio parte diciamo che con questo cambiamento speriamo veramente di poter realizzare le prospettive future di questa meravigliosa regione perché ha delle grandi potenzialità. A livello personale per la lista che ha detto le Fratelli d'Italia è la prima qua a Vallefoglia per il numero di preferenze. Orgogliosissima di questo, delle preferenze che ho avuto e anche del risultato finale anche perché io ho sempre detto che ho messo in primo piano la famiglia, avevo degli impegni familiari cui non potevo mancare in questo periodo, ho dato tutto, ho investito quasi niente in confronto agli altri candidati perché il costo economico è stato pari a zero quasi, quindi i voti che ho, secondo me le preferenze che ho avuto sono state col cuore, per la persona che mi conoscono, per come mi apprezzano, per quello che sto portando avanti anche in consiglio comunale dove rappresento tutto il centro-destra quindi è un orgoglio anche aver strappato la regione nel comune di Vallefoglia perché ci dà modo di farci conoscere un po' di più, di avere più visibilità perché non c'è mai stata tanta visibilità per il centro-destra qua a Vallefoglia questo renderà probabilmente i tre gruppi della coalizione, i tre principali gruppi della coalizione ancora più collaborativi per costruire anche nella città di Vallefoglia un futuro migliore Un'ultimissima cosa, quella sulla fluenza, qua a Vallefoglia quasi il 60% poteva andare meglio, poteva anche andare peggio un suo commento? No, diciamo che non lamentiamoci, visto il tempo che ha giocato bene e male diciamo perché ancora la gente negli ultimi giorni d'estate si va al mare però si è riscontrata un'affluenza maggiore nelle ore serali quando il tempo è cambiato in effetti e tanta anche il lunedì c'è stato parecchio movimento il lunedì in parecchi seggi specialmente in quello di Montecchio che è quello più grande quindi io direi solo di ringraziare tutti gli elettori che comunque sia in Consiglio Comunale continuerò a rappresentare tutto il centrodestra e per Fratelli d'Italia sono talmente orgogliosa di aver portato un ottimo risultato qua a Vallefoglia grazie di tutto Sì, come detto ieri c'è stato lo spoglio e devo dire che è stato uno spoglio abbastanza chiaro e limpido perché innanzitutto mi preme ringraziare tutti coloro che sono andati a seggi anche i presidenti che ci hanno lavorato, i segretari perché con questo periodo di Covid non era semplice invece devo dire che tutto è andato abbastanza bene lo spoglio di ieri ha portato una nuova ventata una ventata che ha portato un presidente Francesco Acquaroli che conosco personalmente ad essere il nuovo governatore della regione Marche e visto che lo conosco ormai da diversi mesi posso dire che sono convinto che farà molto bene e porterà nella nostra provincia anche quelle iniziative che forse ultimamente erano state un po' trascurate e ci porterà anche a livello sanitario quello che forse ci era stato tolto A livello personale Davide un buon riscontro per quanto riguarda i tuoi direttori Sì, devo dire soprattutto anche nel comune di Vallefoglia ringrazio particolarmente chi è che mi ha appoggiato ringrazio tutti gli elettori che mi hanno dato questa possibilità anche nel mio comune sono stato ampiamente votato con quasi il 40% delle preferenze e questo mi riempie di orgoglio perché significa che stiamo facendo una buona amministrazione come dicevo nel comune di Vallefoglia ho avuto un ottimo riscontro pensavo di poterlo avere ma non di questo livello quindi ringrazio particolarmente coloro che mi hanno votato Un'ultimissima cosa, l'hai già sottolineato tu in precedenza la buona affluenza a queste elezioni Sì, l'affluenza devo dire che nonostante il periodo Covid è andata in linea anzi al di sopra forse delle aspettative questo è sinonimo che i cittadini hanno capito che è importante andare a votare e recarsi ai seggi in sicurezza così come è stato e quindi un grande complimento anche a loro Grazie a tutti